Sul Sipario, sulla 26esima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. L'attesa è finita e a partire da oggi si accendono i riflettori sulla Kermess in programma fino al 4 settembre. Si comincia questa sera con il primo degli spettacoli in cartellone. Si intitola Shakespeareology, un lavoro del teatro sotterraneo, compagnia nata a Firenze che ha già collezionato numerosi riconoscimenti teatrali a livello nazionale ed internazionale. Scritto da Daniele Villa, interpretato dall'attore Vudineri, Shakespeareology è un omaggio al grande drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare, protagonista di una sorta di intervista impossibile sulla sua vita e sulle sue opere. Un one-man show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, appuntamento alle 21.30 a Palazzo Ducale. Per la sezione extra partono sempre oggi le indagini Lampo della compagnia Iomini, un esperimento a metà tra laboratorio e teatro realizzato in occasione del Festival Castel dei Mondi. Un progetto di indagine socio-umanistica per raccogliere le parole, gli sfoghi e i desideri dei residenti dei rioni Monticelli e San Valentino per poi restituire uno spettacolo sui due quartieri e sugli andriesi.